Permoi sei, c'è un motivo particolare? No! no, no, capito! e' un motivo divenire così ... gelar senza ingettati ok, tu stai solo e metti lì 6 carte proprio sul suono 6 carte, proprio io 1 2 3 4 5 Questa e' la sestaき justamente, giusto? se fossero 10 dei fiori, sarebbe interessante gira Interessante, è strano, è strano la cosa dell'interesse, però Renzo è carissimo, guarda qua, io non ho potuto pensare in mano, quella che tu hai fatto, in questa vista c'è leggermente, è fantastico, poi c'è la festa della donna, che è un specchio bollino, stupendo, te la ricordo bene? E io con tre di fiori, non ero per i fiori, interessante, ma guarda oggi è la festa della donna e quindi tascuriamo nella donna, è meglio la donna, è meglio la donna, sei d'accordo o non è questo? E cavolo, la donna è d'accordo, è d'accordo o no, è meglio la donna, sicuramente è meglio della collega, fanno un'improximata euro, ci mettiamo d'accordo, andiamo al casino.